salve a tutti oggi vi faccio vedere come fare questo punto non è difficile da fare un punto bellissimo come vedete quello che dovete sapere sono la maglia alta e la maglia altissima spero che troviate questo video utile capirete quello che sto facendo e che lo proverete cominciamo con fare le catenelle le catenelle dobbiamo fare multiplo di 12 più 3 allora multiplo di 12 più 3 cominciamo questa riga con fare una catenella poi andiamo alla seconda catenella qui e facciamo una maglia bassa adesso dobbiamo fare 11 maglie alte 11 maglie alte nelle prossime 11 catenelle una due tre quattro cinque 6 7 8 9 9 10 e 11 allora dobbiamo fare 11 maglie alte queste sono le prime 11 maglie alte vedete adesso dobbiamo fare due catenelle saltiamo la prossima catenella qui e dobbiamo fare altre 11 maglie alte allora abbiamo saltate una catenella abbiamo fatto due catenelle dobbiamo fare altre 11 catenelle 10 maglie alte e questo è come deve essere la prima riga sempre ripetere questo 11 maglie alte saltate una catenella e le separate con due catenelle continuate a fare 11 maglie alte altra patenelle altra patenelle sono pronti abbiamo fatto altre due catenelle abbiamo saltato una catenella e facciamo altre 11 dovete continuare tutta la riga così fare 11 maglie alte poi due catenelle saltate una maglia alta finché avrete soltanto finirete con soltanto una catenella la riga deve finire con una catenella rimane una catenella come vedete e la finiamo con una maglia al bassa con una maglia bassa e questa è la prima riga pronta adesso cominciamo la seconda facciamo 7 catenelle 234567 7 catenelle adesso dobbiamo andare nella sesta maglia alta contate 5345 nella sesta dobbiamo fare una maglia altissima dobbiamo fare cinque maglie altissime nella sesta una due tre quattro cinque sei nella sesta dobbiamo fare cinque maglie altissime questa è la prima la maglia altissima dobbiamo fare girare due volte la lana sull'uncinetto due cinque sei nella sesta maglia alta adesso ci sono le cinque maglie altissime adesso come vedete sono cinque maglie altissime cinque tre quattro cinque tra la cinque e la sesta dobbiamo lavorare qui tra la cinque e la sesta maglia alta qui tra la c la quinta e la tra la quinta e la sesta maglia alta e dobbiamo fare sei maglie alte fare l'uncinetto qui tra la cinque e la sei metterò l'uncinetto li e dobbiamo fare sei maglie alte una sempre qui tra la cinque e la sei due tre quattro cinque cinque e l'ultima sei e queste sono le sei maglie alte come vedete adesso tre catenelle una due e tre due catenelle scusate due catenelle andate qui in mezzo e fate una maglia bassa e adesso continuiamo sul contiamo cinque una due tre quattro cinque nella sesta dobbiamo fare lo stesso cinque maglie altissime questa è la prima questa è la prima qui ho fatto uno sbaglio come vedrete ho fatto uno sbaglio perché prima dobbiamo fare due catenelle dopo la maglia bassa dobbiamo fare due catenelle e facciamo di nuovo andiamo nella sesta una due tre quattro cinque sei e dobbiamo fare cinque ma lì è altissime ma lì è altissime due tre tre quattro e cinque adesso come prima tra la cinque dobbiamo lavorare tra la quinta ma lì alta e tra la sesta una due tre quattro cinque dobbiamo lavorare qui in mezzo alla cinque e mezzo alla cinque e mezzo alla quinta ma lì alta e tra la sesta una due tre quattro cinque e mezzo alla sei qui e dobbiamo fare sei maglie alte una due Quattro, cinque, sei, e poi continuiamo tutta la riga così. Adesso facciamo due catenelle, dobbiamo fare due catenelle, una maglia bassa, qui dove abbiamo fatto le tre catenelle, e altre due catenelle. E continuate tutta la riga come abbiamo fatto qui. Cinque maglie altissime, poi sei maglie alte. La riga è pronta, come vedete, e finiamo la riga con una maglia altissima. Qui all'ultimo facciamo una maglia altissima all'ultimo punto qui. E anche questa riga è pronta. Come vedete, adesso cominciamo l'altra riga con una catenella. Facciamo una maglia bassa sulla maglia alta di prima, un'altra catenella, e dobbiamo fare una maglia altissima su ogni maglia altissima che abbiamo. Su queste undici maglie alte dobbiamo fare una maglia altissima. E lo dobbiamo fare così, mettere l'uncinetto da dietro così, davanti e di nuovo a dietro. E dobbiamo fare undici, in ogni maglia alta che abbiamo. Una, sempre una maglia altissima, sempre mettere l'uncinetto così, da dietro, davanti e dietro di nuovo. E dobbiamo fare undici. Due, perché undici? Perché abbiamo undici maglie alte. E lì dobbiamo fare tutte. Tre, quattro, cinque, sei, questi sono le prime sei, e abbiamo le altre cinque. E facciamo lo stesso. Maglie altissime. Cinque maglie altissime, adesso una, sempre mettere l'uncinetto così, come sto facendo io. Due, due, tre, quattro, e cinque. E questi sono pronti. e dobbiamo fare così su ogni maglia alta che abbiamo adesso 3 catenelle e andiamo di nuovo nei prossimi 11 e facciamo lo stesso come abbiamo fatto prima una maglia altissima su ogni maglia alta che abbiamo sempre mettendo l'uncinetto come sto facendo io prima cominciamo da dietro davanti e dietro di nuovo e dobbiamo farlo su sulle 11 maglie alte che abbiamo continuiamo così tutta la riga così come abbiamo fatto qui qui facciamo 3 catenelle in mezzo e facciamo come abbiamo fatto qui continuiamo a fare le maglie altissime come sto facendo io continuate tutta la riga così la riga è pronta adesso vi dico come finirla andate nella quinta catenella che abbiamo qui queste sono le sette di prima abbiamo nella quinta e finiamo con una maglia bassa e questa è pronta come vedete adesso la prossima riga come la seconda riga che abbiamo fatto come questa qui dobbiamo fare 7 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 andiamo alla sesta catenelle maglia alta 1 2 3 4 5 6 e dobbiamo fare 5 maglie altissime nella sesta 1 2 3 4 5 6 dobbiamo fare 5 5 6 dobbiamo fare 5 maglie altissime nella sesta 1 2 3 4 4 6 dobbiamo fare 5 maglie altissime 5 5 adesso di nuovo dobbiamo lavorare tra la 5 e la 6 e mezzo alla quinta e la sesta 1 2 3 4 5 questa qui dobbiamo fare 6 maglie alte qui tra la quinta e la sesta maglia alta dobbiamo fare 6 1 2 3 4 5 5 e 6 e facciamo come abbiamo fatto prima adesso 2 catenelle proprio come quella riga che vi ho fatto vedere 2 righe andiamo qui una maglia bassa un'altra 2 catenelle e di nuovo facciamo come abbiamo fatto come abbiamo fatto troviamo la sesta facciamo 6 maglie altissime 5 maglie altissime poi tra la quinta e la sesta 6 maglie alte di nuovo 3 catenelle poi e continuate tutta la riga così come vi ho fatto vedere come questa qui la riga è pronta e finiamo con una maglia bassa nella quinta catenella adesso di nuovo ripetiamo l'altra riga una catenella una maglia bassa un'altra catenella e di nuovo dobbiamo fare una maglia altissima su ogni maglia altissima che abbiamo come? vi ho fatto vedere prima sempre ripetere queste due righe voi dovete ripetere sempre queste due righe sto facendo una maglia altissima su ogni maglia alta che abbiamo non è un punto difficile come avete visto come avete visto come vedrete alla fine di questo video continuate a fare una maglia altissima su ogni maglia alta che abbiamo continuate qui poi qui 3 catenelle continuate lì e continuate tutta la riga così poi ripetere la riga che vi ho fatto vedere sempre ripetere quelle due righe sempre ripetere quelle due stesse righe e avrete questo risultato e questo come il punto come viene come vedete è molto bello abbiamo sempre ripetute queste due righe non è difficile a farlo spero che abbiate capito quello che stavo facendo e che lo proverete ciao per adesso ciao